E' tempo di nuove assegnazioni nella scuola di Amici 18. Dopo la puntata speciale di sabato, i professori richiamano gli allievi, aspiranti e non, in saletta per scoprire in cosa dovranno esibirsi sabato prossimo. Anche Giacomo Eva ad Amici è chiamato in sala canto per scoprire quali saranno i brani per sabato ed è qui che riceve una doccia fredda Alex Britti gli ha assegnato per me è importante dei tiromancino. Una canzone che ha per Giacomo una storia triste alle spalle questa canzone la portai a X-Factor, la stessa che portò poi alla mia eliminazione. Ha raccontato Giacomo che è ora immerso in un grande dubbio io non capisco perché proprio ora, io non so se ce la faccio a cantarla in questo momento. Il ricordo è doloroso al punto che lo fa scoppiare in lacrime e chiedere l'aiuto della madre. La difficile scelta di Giacomo Eva i dubbi però continuano anche dopo la puntata. È sui social che Giacomo Eva scrive non so che fare, riferendosi appunto al brano assegnatogli da Britti. Il consiglio dei fan è però sempre lo stesso faldo e dai tutto te stesso. Fai vedere cosa sai fare e stavolta con questo brano conquista il tuo posto ad Amici. Scrive una fan. Ma cosa farà Giacomo? Accetterà davvero la sfida lanciatagli da Alex Britti dopo lo zero che il professore e musicista gli ha dato sabato scorso per la donna cannone? L'arcano potrebbe essere svelato proprio nella puntata di Amici 18 in onda oggi, 28 novembre, su Real Time. Dopo essersi confrontato con i suoi amici, Giacomo Eva potrebbe comunicare la sua decisione ai professori. Grazie a tutti.